Apriamo la pagina dedicata al coronavirus. Prosegue la campagna vaccinale in Puglia. Oggi sono arrivate 40.200 dosi di Moderna e con il 96,5% di somministrazioni la regione è terza in Italia per vaccinazioni eseguite. Questo è i dati dell'ultimo bollettino epidemiologico nella scheda. Tre decessi e 334 nuovi positivi al coronavirus in Puglia sono i dati che emergono dal bollettino epidemiologico regionale di oggi. Nel dettaglio si tratta di 86 casi in provincia di Lecce, 85 nell'Abat, 64 nel Barese, 46 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 26 nel Tarantino. Sei i casi di residenti fuori regione. Altri sei casi per cui la provincia di residenza non era nota sono stati riclassificati e distribuiti. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Puglia dove sono arrivate 40.200 dosi di Moderna e con il 96,5% di somministrazioni la regione è terza in Italia per vaccinazioni eseguite. A precederla ci sono le Marche e la Lombardia. Lo rende noto il Ministero della Salute. L'Asla di Brindisi fa sapere che il 76% dei residenti in provincia e in età vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre il 64% ha completato l'intero ciclo vaccinale. L'azienda sanitaria rende noto anche che dal 16 agosto proseguiranno le somministrazioni per gli studenti dai 12 anni in su. Intanto dei circa mille turisti che hanno scelto di fare il richiamo in vacanza ne abbiamo vaccinati 700, aggiungono dal Dipartimento, che esorta i cittadini tra i 40 e i 59 anni a vaccinarsi. La Asla di Lecce, invece, punta sui giovani con l'organizzazione, dal 23 agosto in poi, di sedute vaccinali dedicate nelle scuole della provincia. Dal 16 al 22 agosto, invece, i ragazzi residenti in provincia di Lecce, di età compresa tra i 12 e i 19 anni, hanno la possibilità di accedere, senza prenotazione, agli hub dell'Asla per ricevere il vaccino anti-Covid. Infine, la Asla di Taranto ha organizzato due open day nel lab allestito nel centro commerciale Porte dello Ionio del Capoluogo, dedicati a chi ha un'età compresa tra i 12 e i 18 anni. La prima giornata è prevista per il prossimo 20 agosto, quando, dalle 18 alle 24, i ragazzi potranno vaccinarsi senza necessità di prenotarsi. Si replica poi il 27 agosto.